Rispetto a quello che ieri ha affermato il Presidente del Senato, non è che quando si perde si aboliscono le elezioni, non funziona così, non è che si scappa col pallone in mano, per usare un'altra metafora calcistica, visto la partita di ieri e il successo degli azzurri che sono riusciti a qualificarsi. Non è colpa degli elettori se la destra ha perso, è colpa loro che evidentemente hanno dimostrato incapacità di governare bene, quindi noi non ci stiamo e troviamo assolutamente sconveniente oltre che grave che la seconda carica dello Stato proprio nei primi minuti a caldo di una sconfitta parli di cambiare le regole perché così magari la prossima volta. E' proprio una roba che non ha neanche senso delle istituzioni dire una cosa di questo tipo.